benvenuti iniziamo subito da salerno questo video allora iniziamo subito con gli stadi grandi adesso perché quelli pugliesi sono tutti piccolini bambini e allora iniziamo con gli stadi che si può ragionare allora stadio di salerno la salernitana squadra di allora abbiamo lo stemmo questo è super tutto come dire se questa seduta è una del migliori allora ma allora questo è proprio come dire personalizzato salernitana 1919 questo mi piace dire il vero mi piace quindi voto un bel 88 88 mi piace mi piace mi piace simpatico andiamo pompey pompa donna lo stadio di pompeo c'è uno stadio pompeo c'è uno stadio pompeo c'è uno stadio pompeo c'è uno stadio di pompeo piolo di lava allora qua ci sono tutti gli scavi no questo il paese nuovo gli scavi devono stare qua c'è ragione no cazzo vabbè pompeo non pensa che c'è uno stadio pompeo enorme pompeo cacchio napoli a napoli lo stadio di guarmando maradona mi pare di averlo già fatto vedere quattro volte chi se ne frega è di guarmando maradona questo uno stadio di paese iniziamo vedere gli stadi di paese allora simpatico alla cosa per correre due sedute questo il primo stadio di napoli di voto 4 non mi piace allora eccolo qua diego armando maradona questo qua sinceramente questa immagine questo stadio dieci 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 non ne voglio dire dieci allo stadio di diego armando maradona dieci dieci come fai a votarlo in modo diverso dieci ragazzo bellissimo che prima era il san paolo eccolo qua un altro piccolo stadio di paese allora ha una seduta una lunga seduta più più lo posso valutare con un ovviamente di diversi sport sono anche gli stadi allora un set manco un cinque però però la maradona è bellissima allora andiamo ancora avanti sorrende dove mi ha portato che fino ho fatto no dove mi ha portato e romania addirittura eravamo a rumania va bene proprio lì c'è la romania in america addirittura mi ha portato eravamo a napoli come ho fatto ad arrivare a in america napoli stavamo dicendo prima che mi portassi tutta l'altra parte del mondo allora paesino carino poche case si estende a questo stadio allora oh stanno giocando oh screenshot finalmente trovo uno stadio dove dall'alto e mi pare di averlo già trovato uno però questo è un stadio serio allora abbiamo un posto dove andare dalle sedute ok qua sono tutte le sedie qua sta il campo ah qua fanno allenamento capito interessante no vedete ci sono i puntini che giocano che bello vediamo se c'è un altro stadio non penso niente vabbè ottimo andiamo avanti ragazzi andiamo avanti come facciamo andiamo a capri a capri mi pare di esserci stato si sinceramente non penso che c'è uno stadio a capri sinceramente punto allora ercolano ercolano no pompei nola mola la versa caserta caserta oh la legge di caserta wand c'è belle è enorme qua c'è tutto qui allora aspetta allora lì alla legge di caserta ci sono stato ok allora stavo dicendo la legge di caserta ci sono stato quindi so com'è e sinceramente anche qua non penso che ci sia uno stadio andiamo qua oh cos'è no non è uno stadio la vita è come il cricket come cazzo si gioca cricket la strada niente a me interessa vedere adesso degli stati grandi pescar pescara vediamo un po' cosa c'è pescara pescara si pesca allora no volevo provare a fare una cosa andare qua a scrivere stadio così a caso e vedere se mi indica tutti gli stadi allora qua c'è uno ah vedi ora ce li abbiamo tutti ah delle sedute carino cin quattro andiamo andiamo a scoprire un sacco di stadi stadio città ok allora sedute sempre lo solito quadrato quattro un po' questo un altro stadio sempre calcio unica seduta dritta non mi piace voto niente cioè zero andiamo avanti andiamo avanti ragazzi abbiamo un sacco di stati da guardare e sono pure tanti allora questo è trascurato qui c'è scritto Harry quelle cose d'amore mamma me ragazzi andiamo avanti andiamo avanti a cercare gli stadi e no sono tutti così andiamo avanti è pieno mamma a rodocar no no qua non c'è uno stadio ma vabbè lì ci indica soltanto questi stadio ho uno stadio tondo con le sedute oh in quel centro si può entrare e vediamo i minupick allora qua ci sono un po' di sedute allora no è bello simpatico sì c'è pure tutte le le pubblicità intorno con le squadre con le pubblicità appunto sì carino carino pinuccio qua c'è un altro accanto che cacchio pure no questo è zero quello che abbiamo appena visto questo qua io voto un sì ci sta allora andiamo avanti stadio circolare se mi fanno entrare vediamo un po' no mi togliamo niente un uno stadio come tutti gli altri simpatica tutto circolare con le sedute intorno questo più carino set con uno stadio di baseball accanto quello di baseball vabbè tre non c'è neanche una seduta allora ora un po' un po' Grazie a tutti.